Ieri al termine della nuova puntata di Rai, dei riflettori si sono spenti solo sulla diretta perché sulle problematiche che interessano Montevergine, le luci sono rimaste ben accese grazie ad una serie di buone notizie che siamo riusciti a portarci a casa. La prima è arrivata dal direttore della funicolare, il quale ha annunciato che da domenica a 15 maggio la funicolare saldrà a Montevergine tutti i giorni. L'ultima corsa resta confermata alle 14.15, con la promessa però di prolungare l'orario a partire dal 1 giugno e la possibilità di corse notturne. Per centrare questo obiettivo si è impegnato anche il sindaco di Mercogliano per l'illuminazione delle uscite di sicurezza, spesa alla quale intende contribuire anche l'ente Parco del Partegno. Il proprio presidente dell'ente, Jovino, ieri è tornato sulla necessità di chiudere alle auto la strada che conduce a Campomaggiore a tutela del bufo-bufo, rospo comune, specie protetta dalla Convenzione di Berne, ritenuta vulnerabile. Purtroppo nel periodo di migrazione riproduttiva dal bosco verso le zone umide capita spesso che questi animali vengono travolti e uccisi dai mezzi che circolano e in queste ore si lavora ad un'ordinanza per la chiusura della strada. Non ci sono, almeno fino a questo momento, indicazioni su come è possibile risolvere il problema della viabilità. La strada che arriva al santuario in alcuni punti è decisamente pericolosa a causa della caduta di massi sulla sede stradale e per le condizioni delle reti di contenimento che in vari punti sono completamente rotte e quindi non svolgono alcuna funzione di contenimento senza dimenticare le transenne ogni giorno sempre più numerose che delimitano alcuni tratti della carreggiata, soprattutto nell'ultimo tratto che porta al santuario. A questo punto è proprio come dice l'abbate, tutto ciò non basta, per Montevergine bisogna investire, smettiamola con le chiacchiere, bisogna muoversi, bisogna fare qualcosa, altrimenti è inutile parlare di turismo.